Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Ieri all'alba è stata uccisa la giovane di 20 anni, Sofia Castelli, dopo una notte di divertimento. Le ultime storie pubblicate dalla ragazza su Instagram mostrano la pista della discoteca a Milano, dove era andata con un gruppo di amiche. Alle 5.58, orario scritto dalla stessa Sofia, la ragazza immortala l'alba mentre rientra a casa e la pubblica sempre sui social, al centro dell'immagine, un palazzo che si trova a poche decine di metri da casa sua. L'ultima foto e l'ultima alba della sua vita. Perché poco dopo essere rientrata nell'appartamento insieme a una sua amica che aveva trascorso la notte con lei. È stata uccisa, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto in quei momenti e per verificare quanto Zakaria Atkawi il suo ex fidanzato, avrebbe dichiarato durante l'interrogatorio al termine del quale è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato in carcere, in vista dell'udienza di convalida in programma domani. Il giovane ha incontrato Sofia venerdì pomeriggio a casa della ragazza, l'incontro di chiarimento in realtà è durato pochissimo, perché la ventenne, alla presenza dell'amica, lo avrebbe cacciato via, in quei minuti, però, l'italo-marocchino sarebbe riuscito a prendere il mazzo di chiavi poi usato all'alba di ieri per entrare nell'appartamento senza farsi notare. Non si sa se prima o dopo il ritorno delle due amiche. Quindi si sarebbe diretto nella camera in cui dormiva Sofia e l'avrebbe attaccata più volte alla gola con una lama ritrovata vicino al letto. Il fatto che l'altra ragazza, che stava riposando in un'altra stanza, non si sia accorta di nulla lascia pensare che la ventenne sia stata aggredita nel sonno. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sull'evoluzione del caso. Grazie per la visione e al prossimo video.